Un video breve che non era in programma, quindi un po' improvvisato, anche perché in questo periodo sono molto molto impegnato, cari amici vicini e lontani, fortetti e bibbiani, e il tempo è davvero poco. Comunque c'è una nota positiva, una nota di speranza, diciamo che nell'ambito europeo ci sono paesi le cui voci dissonanti si moltiplicano e si fanno più sentire, diventano più esplicite. Quindi ci si defila da posizioni miopi, da posizioni oltransiste, da posizioni guerra fondaie, che sono invece tipiche della dirigenza della classe politica polacca, dei Lettoni, degli Estoni e della Gran Bretagna, in particolar modo naturalmente non dei popoli, ma delle appunto elite di questi paesi. E quindi dobbiamo segnalare con piacere che altri invece ragionano e non si sono lasciati prendere da una russofobia esasperata. Dovete sapere che il presidente bulgaro Radayev ha dichiarato nelle scorse ore, sto leggendo perché mi sono preso due appunti, che la Bulgaria non darà più armi all'Ucraina, altrimenti, ha detto questo, altrimenti la Bulgaria non darà più armi all'Ucraina, altrimenti il conflitto si prolungherà e finirà per dissolvere la stessa Ucraina e la stessa Europa. Quindi dichiarazioni importanti con questo verbo dissolvere, dissolvere la stessa Ucraina e la stessa Europa. Questo è un dato importante. Poi c'è anche Viktor Orban, che è in Ungheria, che ha sostituito numerosi ufficiali, li ha defenestrati e sostituiti, ritenendoli troppo filonato. Quindi almeno sul fronte Bulgaria e Ungheria abbiamo notizie positive. Tant'è vero che alcuni in America hanno detto che bisognerebbe riconsiderare la posizione dell'Ungheria e l'appartenenza dell'Ungheria all'interno della stessa Nato. Quindi vedete, già appunto questi due paesi, Bulgaria e Ungheria. Ma poi ci aggiungiamo anche la Turchia, per la quale vale lo stesso discorso. Molti, soprattutto negli usi, iniziano a dire ma che ci fa la Turchia nella Nato. E quindi, ripeto, ci sono speranze che si torni a quote più normali e che il fronte Nato si spacchi. Cosa che sarebbe molto positiva perché avvicinerebbe di fatto il termine del conflitto in Ucraina. Armando e continuando ad armare l'Ucraina, come sapete, non si cambia la sorte dell'Ucraina stessa, che comunque è una sorte segnata e si prolungano soltanto i tempi dell'agonia dell'Ucraina e si fa sì che ci siano solo più morti da parte Ucraina. Quindi speriamo che prevarga la ragionevolezza. Vi ringrazio per l'attenzione. Per stasera volevo dirvi soltanto questo. Era un breve video per segnalarvi questa piccola ma importante realtà in movimento. Grazie ancora e vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram Giorgio Riccardini. Sono Riccardini come all'anagrafe su Telegram. E presto tornerò su Face dove sono stato bloccato con un profilo completamente nuovo. Grazie e alla prossima.